Uno sguardo di insieme innovativo e allo stesso tempo rispettoso e coraggioso sulle problematiche collegate al disagio mentale. Così la ASLBT ha presentato questa mattina nel giardino dell'ex ospedaletto pediatrico di Trani il festival di cortometraggi Oltre la penultima verità, manifestazione che si svolgerà in tre serate al castello di Barletta dal 22 al 24 giugno. È il primo festival regionale organizzato dalla ASLBT e questo è sicuramente motivo d'orgoglio per noi perché è una iniziativa nuova, innovativa che ci consente appunto di creare un momento di incontro, di scambio, di condivisione su quelli che sono i temi legati alla salute mentale. Sicuramente in questo spazio il protagonista assoluto è proprio la salute mentale e il disagio mentale viene raccontato dalle parole e dalle immagini di coloro che lo vivono quotidianamente quindi dei ragazzi, dei giovani, di tutti coloro che vivono questo disagio. A promuovere la manifestazione il direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASLBT Giuseppe Barrasso ed il responsabile del CSM di Andrea Canosa Filippo Jovine. Una preziosa occasione dicono dalla ASL per parlare di salute mentale anche lontano dai luoghi di cura e riabilitazione. L'idea è quella di portare la salute mentale in un contesto molto pubblico quindi di sconfinare, di andare oltre i confini mentali, oltre i confini organizzativi per parlare di salute mentale all'intera popolazione, questo è il nostro obiettivo. La partecipazione è gratuita, chiediamo soltanto l'iscrizione, ma la partecipazione è assolutamente gratuita. Saranno proiettati 14 corti selezionati su 46 che sono arrivati, il Festival La Valenza regionale. Saranno proiettati questi corti, ci sarà una premiazione nella serata finale, saranno premiati il miglior corto, il migliore interprete protagonista e il migliore interprete non protagonista.